Un anno importante il 2019 per la provincia di Teramo, un ente che ha messo in sicurezza tante strade del territorio e che dal 2020 tornerà ad assumere. Il bilancio che ha tracciato il presidente Diego Di Bonaventura ha riassunto interventi e movimentazione finanziaria degli ultimi 12 mesi, 30 gli interventi sulle opere pubbliche e 102 sulla viabilità. I soldi utilizzati, 17 milioni e 200 mila euro dei fondi Masterplan, 2 milioni e 900 mila euro di manutenzione straordinaria, 32 milioni di fondi Sisma, 1 milione di fondi di bilancio, 5 milioni e 315 mila euro per l'edilizia pubblica e scolastica. È stato un anno importante, difficile, ma che ha portato i suoi frutti. Siamo entrati in questa provincia con difficoltà, ma abbiamo messo in campo i famosi binari, l'attenzione alle piccole cose, la visione straordinaria e così è stato. Io lo sento in giro da tanti cittadini, non tutti, perché poi siamo arrivati a mettere in sicurezza tantissimi tratti di strade in questo anno, poi non ce l'eremo i numeri che abbiamo come dati, ma abbiamo ancora tanto da fare, perché abbiamo ancora tante strade danneggiate, però il fatto di essersi occupati di tratti messi male, di aver riportato quelle strade percorribili, è un primo segno di speranza. Così continueremo ad arrivare nel prossimo anno al 70% del territorio provinciale, perché io vi chiedo, lo ho detto, dateci tre anni, perché sicuramente tanti oggi sono felici del concetto della provincia, perché vedono che tanti tratti di strada delle loro zone sono rimesse quasi a nuovo e tanti ancora spentano da tanti anni. Per quanto riguarda poi la stazione scistica dei prati di Tivo è tutto pronto, manca solo la neve, mentre grande preoccupazione destra la situazione del blocco parziale dell'autostrada A14, che sta creando enormi problemi a viabilità e centri abitati. Oggi è un giorno importante perché dopo che il 24 le autostrade hanno rifatto una nuova istanza di dissequestro su quei piccoli tratti di chiusura del casello di Roseto, la Procura è al lavoro e speriamo oggi pomeriggio di avere qualche notizia in più che ci permetta di riaprire il casello di Roseto e anche sul fatto del divieto dei mezzi pesanti su quel viadotto del Cerrano, perché vedendo gli studi, ascoltando gli ingegneri autorevoli dell'autostrada, attualmente non c'è nessun pericolo di possibili crolli. Perciò bisogna far mettere su un tavolo gli attori per farli ragionare e trovare una soluzione perché hanno e stanno creando un disagio vero all'economia reale e all'ambiente circostante.